Noi siamo in continua evoluzione, poi dove andiamo Non si sa, quello che ci ispira di più, tutte le influenze che ci arrivano Prendiamo quelle appunto che ci ispirano di più Quindi ci siamo evoluti un po' diciamo verso l'elettronica e la dance Perché il rap non è che ci aveva stancato Però non ci trovavamo più Questi così come la normale evoluzione delle cose Uno non può fossilizzarsi Ci divertiamo da morire Quando suoniamo la cosa principale Prima di tutto dobbiamo divertirci noi Perché quello che noi proviamo lo trasmettiamo alle persone Quindi se noi ci divertiamo le persone si divertono Sei stato sul palco e sei preso male Che è successo qualcosa O comunque sei distante, distaccato O troppo impettito magari Perceviscono e quindi non va bene Quindi prima di divertirci siamo veramente noi Il nostro album è un album doppio Innanzitutto Quindi ha un CD con 12 tracce originali Uno con tutti i remix In quello che contiene i remix abbiamo messo un po' tutti i nostri colleghi Le persone che stimiamo Mentre invece le 12 tracce sono alcune già edite Altre inedite Tutte quante con una linea conduttrice delle sonorità elettroniche Però anche abbastanza distanti l'una dall'altra Cioè dal pezzo più divertente si va a quello latino O a quello in cui abbiamo cercato In lingua latina naturalmente In cui abbiamo cercato di fare un po' i seri Quindi un po' più sentimentali Abbiamo messo un po' di tutto Raccogliere gli ultimi lavori di questi anni Grazie 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 Grazie